E che differenza c'è? C'è che la brand reputation, che è molto importante per decidere poi una vacanza, cioè cosa dicono di noi, passa necessariamente per un'esperienza. Laddove questa esperienza, nel caso del turista, non la posso aver fatta io perché sto cercando informazioni per prenotarla questa vacanza e quindi non ce l'ho ancora l'esperienza. Di chi mi avvalgo? Mi avvalgo del racconto di chi questa esperienza l'ha già fatta, cioè di altre persone che io individuo persone simili a me. Quindi non cerco l'informazione ufficiale o perlomeno la cerco come prima fonte di informazione, questo rimane importantissimo, ma poi incrocio queste informazioni con quelle che arrivano dal cosiddetto mondo del web 2.0, cioè i contenuti generati dagli utenti. La maggior parte dei turisti, io faccio spesso il sondaggio al mare con le mie amiche, con le persone che conosco fuori dagli ambienti di noi adepti e innamorati del web. Web 2.0 non è un termine che è molto conosciuto fuori dagli addetti ai lavori, ma è molto utilizzato senza necessariamente sapere che si chiama il web 2.0. Fai una vacanza, dico ai miei amici, cosa fai per prenotare? Soprattutto magari quelle più brevi o quelle dove si ha la facilità in un raggio, ad esempio in Italia, dove si ha la possibilità di reperire informazioni online e di discernere abbastanza facilmente. Laddove c'è un problema di lingua, l'intermediario risulta ancora molto efficace, quindi la solita agenzia di viaggi, per l'amor di Dio. Beh, cosa faccio? Dunque mi dicono gli amici, io per prenotare questa vacanza ho identificato una zona, devo scegliere la struttura, che sia agriturismo, che sia albergo, eccetera, ma prima di prenotare faccio tutto online, mi guardo le opinioni di chi ha già prenotato. Queste persone che lo fanno abitualmente stanno utilizzando il web 2.0, ma non è necessario che loro sappiano che si chiama il web 2.0. Noi operatori magari sì. Sapere come usare, come interagire, come fare marketing in questo mondo del web 2.0. Esempi, allora. Se ci allontaniamo, vi ricordate che vi dicevo Italia? Se ci allontaniamo e andiamo sui grossi portali di prenotazione, ritorniamo al discorso del brand Venere, va bene che Venere è italiano, però si rivolge a una clientela internazionale, ho allargato alla voce Italia, eh, Maremma non c'è. Questi sono quelli che io ritengo, a posteriori, nel senso sto facendo una valutazione, quelli che loro reputano dei brand efficaci per convertire, ossia per far fare prenotazioni. Eh, oh, io vi sto facendo una fotografia, e non è che sto prendendo atto. Quindi, se uno cerca Italia in Riviera sui motori inglesi, non la trova, pur sapendo che tutti la chiamano così, che quindi quello è il loro brand. Liguria è un'altra regione che ha delle difficoltà a identificarsi come brand, perché è molto più forte il brand Portofino, piuttosto che Cinque Terre, piuttosto che Alassio, piuttosto che Sanremo. Sono brand più forti. Quindi, questa non è una cosa che bisogna ostacolare, bisogna prenderne atto e favorire. L'importante è che il turista comunque in qualche maniera venga e soprattutto sia soddisfatto. Ne ho fatta un'altra ricerca su booking.com, non vedete bene, ma comunque ci sono in questo tipo di ingrandimento sull'Italia centrale, ci sono alcuni quadratini relativi a località, su cui cliccando si può avere ulteriore informazione. E come vedete, con questo ingrandimento c'è pochissimo di nuovo della Maremma. Ha un ingrandimento superiore, tuttavia escono fuori, quindi non è che non esiste, però c'è tutta una serie di altre località o strutture che vengono segnalate. Io volevo fare una considerazione finale a questo punto. Esiste, tanto per sottolineare l'importanza dell'utilizzo di questi strumenti, come sapete, per convincere la gente bisogna parlare, ma anche giustamente in alcuni casi, di numeri. Allora, l'e-commerce, il turismo nel settore e-commerce in Italia e più o meno con percentuali analoghe anche in altri paesi, pesa stabilmente sopra il 50%. Ma oggi, soprattutto in Italia, l'e-commerce non è l'unico dato attendibile, perché moltissima gente, come abbiamo visto, si informa online e poi prenota per altri canali, o direttamente, questo è auspicabile, oppure attraverso le agenzie di viaggi. Allora c'è questo grosso fenomeno, su cui io non smetterò mai di riportare l'attenzione, che è quello che viene detto infocommerce. Perché attraverso questo infocommerce, a queste informazioni generate dagli utenti, che poi diventano determinanti ai fini della prenotazione. Allora, Country Brand Index, che è una ricerca annuale che viene fatta da Future Brand, che poi stila anche una classifica dei brand nazionali, per l'amor di Dio, sulla base di una serie di parametri, ha cercato di quantificare questo infocommerce. Nel 2007, perché poi non ha rifatto questo tipo di ricerca, ha stabilito, primo, che per arrivare alla scelta di una vacanza, per la scelta della meta, rimane il passaparola tradizionale, la più grossa fonte di decisione. Ma una volta scelta una destinazione in senso abbastanza ampio, il web, e in particolare il web 2.0, incidono totalmente per un 67%. Allora, non si può non fare i conti con questo fenomeno, bisogna sapere, conoscendolo, e ritorno a quanto esordito, cioè io ho aperto il blog per imparare a capire come funzionava questo famigerato web 2.0, lavorarci dentro, capire la grammatica digitale, perché ogni social network ha una sua diversa, implicita grammatica, Twitter è molto diverso da Facebook, è molto diverso da FriendFeed, ci sono social network trascurati, tra virgolette, come Flickr, che è lo YouTube delle foto, che è un'enorme banca dati online, veramente in Toscana l'avete già sfruttato, avete fatto una bella ricerca a Firenze, col Meet di Boston, e può essere considerata per chi fa marketing, un'enorme banca dati online, disponibile a tutti, da cui estrapolare interessanti considerazioni, su cosa effettivamente pensa la gente, e dopo aver conosciuto cosa gli altri pensano di me, io poi posso lavorare per andare a offrirmi, e soprattutto inserirmi nelle conversazioni, che è un termine che fa riferimento a un manifesto di una decina d'anni fa, inserirmi in queste conversazioni, e solo dall'efficacia di questo mio inserimento, di questa mia capacità appunto di interazione, dipenderà l'efficacia della mia promozione online. Bene, grazie.